Energia. Solo cambiando il modo di guardare le cose, le cose che guardiamo inizieranno a cambiare. In Eni oggi trasformiamo i rifiuti organici in componente per produrre biocarburanti avanzati. Ma non basta. Per fare davvero la differenza abbiamo bisogno di Luca, che ricicla sempre la plastica per darle nuova vita. Perché Eni più Luca è meglio di Eni. Eni, insieme, abbiamo un'altra energia.